Sicuramente ora a gennaio si sono rinforzati e sono una buona squadra. Poi sul loro campo comunque è comunque una squadra difficile da affrontare perché a loro servono punti come servono anche a noi. Quindi sarà, spero e credo, una partita molto bella e speriamo di vincere perché per noi è importantissimo. Sì, sì, siamo molto più positivi ma ancora non abbiamo fatto nulla perché comunque solo con una vittoria non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo continuare questa striscia positiva e da qui alla fine fare le più vittorie possibili perché credo che ancora abbiamo un obiettivo in testa che possiamo ancora raggiungere. Quindi non dobbiamo staccare mai la testa, dobbiamo restare concentrati perché queste sono tutte finali per noi. Ma innanzitutto ai 6 punti non ci pensiamo. La prima cosa che pensiamo comunque è salvarci perché non siamo sicuri al 100% che comunque siamo solo a 6 punti se non sbaglio dai play out. Quindi dobbiamo sempre guardarci le spalle ma il nostro obiettivo principale è quello dei play out perché noi ci abbiamo creduto all'inizio dell'anno e continuiamo a crederci. Anche se sicuramente non sarà facile perché abbiamo molti punti di stacco però come ripeto noi dobbiamo dare continuità al lavoro anche dell'anno scorso. E quindi dobbiamo dimostrare a tutti quello che abbiamo fatto e dobbiamo continuare a essere noi stessi. Perché sicuramente molti di noi sono superiori e non meritano questa categoria come abbiamo dimostrato sia l'anno scorso che quest'anno. E quindi da parte di tutti ci deve essere impegno massimo anche di quelli che sono arrivati per ultimi tipo forte perché sicuramente per me è un calciatore di categoria superiore. L'ho dimostrato in tutte le partite e ora è arrivato anche il gol e quindi penso lo sta dimostrando e deve continuare così. E poi comunque penso che secondo me il terzo posto ancora si può giocare, cioè possiamo giocare anche noi. Quindi non è niente di scritto, mancano ancora tante partite, dobbiamo dare il massimo e poi a fine campionato vedremo la classifica.